Sarà stata probabilmente la disperazione a spingere mani ignote a rubare il massupio del prete della chiesa intitolata la Madonna del Rosario di Gela. Il parroco Don Angelo Ventura aveva nel borsello, conservato in sacristia, pochi spiccioli documenti, le chiavi dell'abitazione ed il telefonino. Durante la messa, durante la celebrazione delle ore 18 e 30, io celebravo la messa appunto, qualcuno probabilmente si sia nascosto nella sacristia o qui in Magno o in qualche altro gabuzzino che c'è qui e poi ha perpetrato il furto e poi è uscito in maniera indisturbata dalla porta che dà all'esterno. E probabilmente si è entrato dall'altare, non ce ne siamo accorti, oppure anche dalla porta d'ingresso della sacristia, ma la difficoltà non sta tanto nel furto che mi hanno fatto, perché bene o male non era essenziale quello che c'era all'interno. Però il disagio che mi hanno creato non è tanto dovuto alla materialità delle cose che conteneva, ma è dovuto anche alla difficoltà di una città che è ormai arrivata all'astrico e questa è la preoccupazione che mi crea. Il cercare di poter lavorare per loro, per avere una possibilità che gli consenta di vivere una vita dignitosa, ma non abbassarsi a queste poche cose che poi all'interno non c'era nulla che sono nemmeno 20 euro se noi dovessimo andare a cercare la minuziosità e del denaro. Però la cosa che denota è appunto la mancanza dei valori sociali, cioè non si rendono conto più, a prescindere la mia persona, ma anche quello che rappresenta il sacerdote e la parrocchia, tutto il contesto ecclesiale. Ormai sono persi quasi tutti i valori. Ma lei ha perdonato chi ha agito? Certo che ho perdonato, certo che ho perdonato. Non era questo il fatto che è successo, non va a prescindere da quella che è la mia identità di sacerdote, non mi ha turbato. Certo mi ha chiamato alla riflessione per poter comprendere, di cercare di far meglio quello che già cerco con la grazia di Dio di poter ampliare nella mia vita. Grazie a tutti.